Ragazzi, siamo tornati su Outlast, non vi spoglierò niente, buona visione. No, di qua, ciao amici! Ragazzi, queste cose dicono cose sensate, che è bellissimo secondo me, parlano a caso. Dicono cose giù, cioè vere, so che dicessero pesate, invece sono tutta qua. Chiudi! Perfetto! Andiamo di qua che... Apri, grazie, chiudi, grazie. Premi il quadrato per attivare la camera dell'equilibrio. Va bene, premiamo il quadrato. Ciao zio, tutto posto? No! No! No, raga, no, 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 raga. Di qua, veloce, veloce! Sali su veloce, madonna, sei lento! Mia nonna è più agile. Va bene. Non mi faccio domande io, andiamo avanti. Ti vorrei far notare che non è passata la musica, quindi non credo che sia finita. No, mi avrei disppogliato. Di qua. No! No, ma è veloce, veloce, apri! Chiudi, chiudi, chiudi! Va, va, culo! C'è il fuoco. Ho ciò che... No! Eh, ma allora sei steno. Sono morto. Sono vivo! Cosa? Sono tornato dove ero prima, praticamente. Se ha fatto, ha massacrato tutti. Puttana! No, vai, vai, corri, corri, veloce, veloce. Vai sotto, scemo! Tutto drogato, per... Madonna, ragazzi. Ragazzi, avete presente quando i vostri genitori vi dicono che mangiare troppo... troppe schifezze e fa male. Ecco, se mangiate troppo al McDonald's, diventate così. Va bene che fate i culi e striscia tutti, però... Non c'è. Sì. Oh, qua è chiuso. Di qua. Veloce! Ragazzi, io... Outlast. Puttana! Via, 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 veloce, veloce, veloce. Ah, non ho trovato! Sono scemo, sono scemo! Madonna, quante droghe mi faccio anch'io. Vai, 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 che non ci passa. Non ci passa perché ho beso. Ah, si è proprio arreso. Cioè, non ce l'è anche arrivato qua. Vai, scendi di qua, va. Scendi. Puttana! Ciao, zio. Ma non era quello di prima che ti aveva testato, questo? Ragazzi, sono tutti uguali, sono. Beh, zio, io vado di qua e ciao. Spengo che se no mi si scarica la batteria. Ah, ciao, zio! Beh, sei ben messo, devo dire. Cioè, l'han legato, non c'ha gli occhi, gli hanno coperto le orecchie. Cioè, boh, va bene. Cammina e basso. Maratoneta. Ragazzi, no, no! Grazie, zio! No! Zio, ti sei fatto male? Ti pulisce lui. Ti dà una mano a lui che tu non le hai più. Grazie, zio, ti sono un debitore comunque. Sei un figo della madonna. Sei su YouTube, sei contento? Bene. Ragazzi, io dicevo prima Outlast, l'ho visto qualche anno fa. Mi ricordo che tipo facevano delle terapie sui pazienti, degli esperimenti, però non mi ricordo bene su che cosa, ragazzi. È da almeno un anno o due che non lo vedo. Oh! Cazzo, vuoi te? No, 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 vai, 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 veloce, 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 veloce. Scompasso. Scompasso? Va bene, qua la gente è scompare, non c'è capito io. Cazzo, voi! Io sono lesbico! Ma, 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 oh no! Tanto lo sapevo che andava a finire così, ragazzi. Ciao, zio. No, no, non ti faccio niente io. Vai tra, sono una persona pacifica. Vai. Scende? Bene. Bello, mi dicono. Wallrider. Ragazzi, se non sbaglio... Minchia, ho capito che si chiama così. Non è che... Sempre le indicazioni col sangue, grazie. Se non sbaglio, Wallrider è tipo il nome di uno dei nemici principali della storia. È una roba così, adesso è il mezzo alla dove. Non c'è niente. Si scende. Beh, bello, mi dicono. Ragazzi, siamo tipo nelle fogne, credo. Cioè, è una figata pazzesca. Se il manicomio, che è il posto che dovrebbe essere, diciamo, normale, era così... Cioè, le fogne, che cazzo sono? Qua c'è Gollum, ciao. Mi spiegate come ci sono arrivate queste cose qua sotto? Cioè, ma che cacca... Ah, è vero che la gente si scaricava, giusto, mi ero dimenticato. Vai, passa che sei magro, zio. Vai. Vai. Striscia, striscia. Nuovo obiettivo, apri le valvole per far scorrere l'acqua. Ah, perché non voglio notarne il piscio. Beh, mi sembra logico, mi sembra... Mi sembra giusto. Oh! Cazzo ci fa qua, lo beso? Guardalo! Eh, raga, ma... Come fa ad essere qua? Ma cosa? Ma come... Come... No, raga, però, mi spiegate come ha fatto a scendere qua. Era la terza strada sinistra, giusto. Oh, non c'è mai di qua. Vai, veloce, corri! Corri veloce, poi a destra. Putana! Via, via, corri veloce, veloce! Eh, niente, raga, tu non ho što bene. Ma come... Vai, 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 zio, vai, 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 veloce, 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 veloce. Ma come... Raga, non ho ben capito, eh, però... Non è bene. E' un bello, cazzo. Qua in basso. Non mi vuoi trovare. Va a sinistra. Sempre va. Perché a questo punto me ne vado a destra, c'è. Ostio. Vai di qua, veloce! Sì. 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 Corri! Salta! Minca, ragazzi, è una staffetta, però non credo che sia quella. Su di qua, all'amor di Dio. Ok. Prima trovata. Ci siamo. Prima l'abbiamo trovata. Il problema è che dalla seconda valvola c'è ovviamente l'obeso. Che bel gioco, eh. Palle. No, perché ho ricaricato? Ma sono scemo dal cervello. Raga, l'ho sentito. Via. Eh, andiamo qua. Vai. Ciao zio, tutto a posto? Come va? Non sono qui. Aspetta. No. No, raga, no. No. Madonna, che maglia, che male. Corri! Corri veloce, 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 veloce. Corri veloce. Corri veloce. Scemo il mio personaggio è tutto drogato, ragazzi. Non riesce a salire un muro. C'è a saltare. Vabbè, a vedere qui. Vai, vai, vai. Corri, corri. Obeso non può prenderti occhio, donna. Che fa? Prendi. Qua non ci passa o impari a mangiare troppo al meglio? Minchia. Vai. E anche la seconda ce l'abbiamo. Grazie, Gesù. Penso di averne ancora tante. Ah, qua è proprio crollato tutto, come prima. Bene. Ragazzi. Adesso non me ne frega niente. Io prendo e corro. C'è proprio più tante. C'è proprio... Corri! Ho sbagliato sbrada, ma che fallo che... Vai, 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 vai. Poi è ansio lì, tipo, è qualche ansio. No, lo sentito, è proprio... Bastardo. Fortunatamente è abbastanza lento, quindi... Cioè, lo semino easy, però... Vai! Vai, scendi veloce. Tanto qua non ci passa, è troppo piccolo sto buco. Non ci passa, raga, ve lo dico io. È vero che non ci passa. Ragazzi, qua sotto non si vede niente, veramente. Bello il piscio, che bello notare. Qua c'è gente appesa sui tubi, va bene. Gente morta. Tua madre è stata, ma... Sali! Chi è questo? Raga? Quanto scommettete che salgo e mi butta giù? Scommetto. E invece no. Strano. Sento, beh... Ragazzi, sento cose che non mi piacciono. Quindi vai, veloce, vai, veloce. Ma è... Ma è Mazzarolindo! Ancora! Lo sfondo. Ok, ho sbagliato, scusami. Dai, raga, devo entrare per forza qua. Vai. No, però mi sono chiesto perché non ti lavi. Perché, zio, mi sa che ci sono dei problemi qua. Vabbè. Io vado, eh, scendo. Ci vediamo dopo. Ciao, zio. Ok. Pure il sangue hanno aggiunto, no? Nuova... New entry. No, ma stai calmo. Ragazzi, vi ho detto che non si può... Cioè, non ci si può scaricare nei cessi, ragazzi. Madonna. Perché ci sono cose? Nelle fondi ci sono cose. Io ero ancora rimasto che nelle fondi ci fossero i cocco e grilli. Non gli armadietti. Comunque, ragazzi, secondo me le batterie di sta videocamera sono quelle dell'IKEA. Cioè, non è che... Ho usato 5 secondi e sei già scaricata. Madonna, santa, che tristezza. Ragazzi, sta parte è bruttissima. Non si vede niente. Vaga. C'è il ciccio... C'è l'obeso. Cosa? Come fa a essercelo obeso? Come fa a ripar... Come... Cosa? Come cazzo fa? Corri, vero, non salto a noi. Ragazzi, ma morti. Non si fa fare per questo, ma... Vai. Ragazzi, non capisco dove devo andare. Sono fottuto. Su qua. Vai, veloce! Vai, vai, corri, 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 corri. Veloce! Madonna, ragazzi, madonna. E' scemo, scemo, scemo... E' scemo, 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 che cazzo è tutto mio? Oh, Dio. Oh! Cazzo vuole questo? Via, via, raga, via, via, veloce, veloce. Vai, vai, veloce, grazie di tutto, però, perché no? Perché la gente mi segue? Che caga! Eh, vabbè, non mi seguo, vabbè. Ok, non mi seguo più. Non posso. Nuovo obiettivo, raggiungi il piano terra dell'ala. Non ho capito. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi! Ciao, ciao!